Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video e oggi sono qui per farvi una confessione. L'avrete già letto dal titolo, in realtà è sì una confessione quanto un prendere coscienza di alcune fatture e alcune cose. Cominciamo dall'inizio. Qualche settimana fa, in realtà un mese fa, ho avuto la possibilità di provare, grazie agli amici di Fotoema, la GH6 e ho cominciato a realizzare, oltre alle mie prove, quello che poi sarebbe diventato il video recensione della GH6 che trovate, linkato qui da qualche parte, che trovate sul canale. Quando ho provato la GH6 mi sono re-innamorato del concetto micro 4 terzi, o meglio, io non ho mai abbandonato l'amore verso il sistema micro 4 terzi, ma nel tempo, dopo aver avuto GH5 due o tre volte, perché poi io sono, come sempre detto e raccontato, sono un amante del provare nuove tecnologie e provare nuovi corpi macchina e molto raramente mi innamoro di qualcosa. Dopo aver provato più volte la GH5, perché l'ho avuta, l'ho venduta, l'ho avuta, l'ho venduta, l'ho avuta, l'ho venduta, l'ho avuta, 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 l'Olympus M1 Mark II. Insomma, le ho possedute, oltre che provare le diverse macchine. E di questo parterre di fotocamere che ho provato nel tempo e che mi sono piaciute, la GH5 era quella che mi era rimasta nel cuore. E quindi, insieme al sistema micro 4 terzi e a tutte le cose che porta con sé, non voglio essere ripetitivo, sono sempre sotto gli stessi punti di vista, ho deciso che quello che a me più piaceva del sistema Lumix era la pasta, i colori. Arrivò poi nel 2020-21 l'S5. Io la comprai veramente per sperimentare, perché sul sistema Lumix full frame non avevo mai poggiato gli occhi, perché trovavo i corpi camera troppo ingombranti, troppo grossi, pesanti. L'S5 poi mi fece innamorare, perché era piccolina, era più piccola della GH5, era full frame. Mi disse, va, investiamo. Da quando l'ho provata la prima volta, me ne sono veramente innamorato, ed è stata probabilmente una delle camere più longeve che ho posseduto. Ho posseduto l'S5 per quasi un anno di lavoro, ho creato i contenuti su YouTube, insomma, mi ci sono divertito parecchio, fino a che non mi era passata proprio in mente l'idea di volerla cambiare come macchina personale. Fino a che ho provato la GH6. Con la GH6 sono ritornato all'amore per il micro 4 terzi, sono ritornato in quel mondo che era quello della GH5, con tutti i suoi pro e tutti i suoi contro. Ho visto nella GH6 dei miglioramenti anche rispetto all'S5, perché poi, avendo avuto nello stesso momento sia la GH6 in prova che l'S5, in cui ho cominciato a fare le mie comparazioni. E mi sono reso conto che GH6, in diverse cose, è molto meglio dell'S5. A special modo, per esempio, sull'autofocus, complice è il sensore più piccolo, complice ai motori delle lenti che sono più leggeri, più piccole. Tutto è diverso, tutto è un pochino più veloce e reattivo, con tutti i problemi dell'autofocus a contrasto. E quindi mi sono detto, dai, voglio lanciarmi, vendo la S5 e compro la GH6. Così ho comprato la GH6, dopo averla comprata ho terminato addirittura la recensione, perché l'ho terminata dopo averla acquistata, la GH6, quindi l'ho provata un altro pochino di tempo. E finita la recensione, sono andato al lavoro due o tre volte e ho portato con me la GH6. Mi ero reso conto che lo zaino era diventato più pesante di quando avevo la S5. Con il mio corredo, il mio piccolo corredo, c'è sempre un viso da qualche parte che ve ne parla, dove ho due lenti, il 20-60 all'ottica kit e il 28-70 di Sigma f2.8. Non sono... ho cominciato a dubitare della scelta che avevo fatto, a dubitare talmente tanto da ripensarci. E quindi dopo 15 giorni, 20 giorni, sono tornato da Fotoema dove avevo fatto la permuta della mia S5 e per fortuna vuole che la MS5 con il mio obiettivo era ancora lì. E quindi ho fatto una doppia permuta, ho reso contento qualcuno che si ritroverà una GH6 in permuta appena uscita e mi sono ripreso la S5. Non nego che in questi giochetti di compro-vendo, naturalmente ci rimetto sempre dei soldi perché è una questione normale, è mercato, ma quando sono riuscito a ritornare a casa con la mia S5, con quella che già avevo settato, impostato, ero molto più sollevato e contento. Questo è il primo video che registro dopo aver ripreso la S5 e non ho... ho molta più confidenza con la macchina, ma se l'ho ripresa c'ho un motivo che però non so spiegare. C'ho un feeling che ho avuto, un feeling, un imprinting che ho avuto con questa macchina così strano. Mi piace e amo la pasta ancora di più in generale di quella di Lumix, anche su Microquattro Terzi. C'è qualcosa che mi piace e non sono ancora riuscito a capire cosa. Ed è la cosa che mi fa piacere questa camera più di una GH6 che al momento, per le mie esigenze, probabilmente poteva essere un po' overkill. Le feature della GH6 nel mio lavoro le avrei utilizzate, sì, tutte, ma un po' più raramente. Quelle della S5, per esempio, a un certo punto mi diventano strette come esigenze, però diciamo che posso conviverci e posso viverci tranquillamente. E preferisco rimanere con, avere una camera con cui ho un feeling, un imprinting così forte. E non capisco il perché, non capisco il motivo. Sarà una questione del momento, sarà una questione che ho riguardato il materiale, ho riguardato il clip, ho avuto della nostalgia per una camera che ho avuto per più tempo. E non posso pretendere che qualcuno di voi possa capire, possa immaginare che cosa io sto vedendo. C'è qualcosa che non riesco a concepire, ma che mi piace davvero tanto. E spero che anche voi troviate nel vostro corpo macchino, nel vostro strumento di lavoro, qualcosa che vi faccia innamorare così tanto da dire, non me ne libererò mai. Questa cosa succede a tanti colleghi che sono sempre stati appassionati a un loro specifico corpo macchina. Ok, fermo un attimo il video, perché mi è venuto in mente una delle possibili cose che mi fanno impazzire della S5. La gamma dinamica. Non che la GH6 non abbia un'estrema gamma dinamica, ma ha qualcosa nella gamma dinamica, la S5, che mi piace tantissimo. Qualcosa nelle ombre che non è troppo dura. E non è una questione di impostazioni, perché io ho l'S5, ho utilizzato tutti i parametri di base. Mentre con GH6 ho provato a variare dei parametri, anche dei profili colore. Ho provato anche con il vlog, V-log scusatemi, ed è sempre la stessa cosa. Questa è una delle possibilità, però ci sto ancora ragionando. Certo però, rimane un autofocus lento, anche se sto controllando dall'app e non sembra che stia perdendo il fuoco. Non so, forse ha avuto paura, è stata due settimane in uno scatolo e si è preoccupato. Sarà, però per adesso sembra non perdere il fuoco. Ora, fatta tutta la prima parte del video molto emozionale, molto di cuore, quindi dove ho raccontato l'esperienza, voglio provare ad analizzare con voi, non ho scritto niente, non mi sono preso appunti, non ho scritto niente, vorrei veramente provare ad analizzare con voi quali sono state le cose che mi hanno fatto tornare indietro. Così da dare un feedback anche a qualcuno di voi a cui può interessare questo tipo di analisi, se dovesse ritrovarsi in una condizione del genere. Naturalmente dopo un anno di full frame, Micro Quattro Terzi ha un look diverso, un look che io conosco e conosco bene, mi è sembrato strano. Sarà il mio occhio viziato dal full frame dell'ultimo anno, ma ho notato la differenza. Quindi partiamo da questo presupposto, che sia la gestione della luce in generale, che sia, purtroppo, lo devo ammettere, il bokeh, non perché io viva per il bokeh, ma il fatto di dover impostare un'inquadratura e fare più attenzione a quello che ho dietro, almeno per quelle che sono in questo momento le mie esigenze, è abbastanza dura. Ma dall'altro lato devo dire, sempre questione bokeh, sono andato a lavorare, avevo bisogno di molta nitidezza, avevo poca luce, e anche con l'obiettivo f2.8 sul Micro Quattro Terzi riuscivo a vedere tanto. E questa è stata una manna dal cielo, almeno in quella situazione avere una Micro Quattro Terzi. Quindi probabilmente io dovrò avere un doppio corpo, non dico una GH6, ma se riesco a trovare una GH5 a un buon prezzo, l'affiancherò alla S5 con molto piacere. Poi cos'altro? I formati di immagine. Ora, io ho girato delle clip in 5.7K e mi hanno fatto emozionare pienamente. L'unica grande problema o differenza è il peso del materiale. Ho registrato diversi contenuti sia per YouTube con la GH6 che per lavoro, e mi sono reso conto che i bitrate sono molto più elevati sulla GH6, che da un lato è naturalmente fantastico, dall'altro lato per la mia esigenza il bitrate era davvero troppo elevato, e avevo bisogno comunque di un 10-bit. Non ho capito perché, per quale specifico motivo. Il bitrate sembra essere più elevato sulla GH6 a 10-bit, un valore intermedio piuttosto che sull'S5 che comunque porta un 10-bit in camera. Il sensore è bellissimo sulla GH6. Questo nuovo sensore è soprattutto la modalità di scatto a 100 megapixel. Quella sì che mi mancherà. Ho fatto degli scatti a 100 megapixel, nulla di artistico, ma per lavoro, e porca miseria, quella è una feature che mi mancherà. Sulla S5 mi dovrò accontentare del mio sensore a 24 megapixel. Altra enorme questione è la batteria. GH6, S5 e GH5 Mark II, se non sbaglio anche S1, S1R, S1H, portano tutti quanti le stesse batterie nuove di casa Panasonic. Con la S5 io ho una batteria, a me una batteria dura davvero tantissimo. Riesco a lavorarci una giornata intera senza mai doverla cambiare. Sono andato a lavoro con una GH6 e ho dovuto cambiare due batterie. Mi sono reso conto anche, girando dei contenuti per il canale, che GH6 consuma molta più batteria. Sarà il raffreddamento attivo del corpo macchina, molto probabilmente sarà il raffreddamento attivo, che comunque non si percepisce, quindi non dà assolutamente fastidio. Ma è davvero, davvero, davvero non problematico. Però se prima camminavo con tre batterie e non ne cambiamo nessuna, adesso con tre batterie stavo stretto. Quindi questa è stata una grande differenza. Altra grande differenza, Proge H6 e il monitor. Il monitor è più nitido, migliore. Poi, come voi sapete, io non amo entrare troppo nei dettagli, però effettivamente il monitor GH6 è di una qualità superiore, anche come luminosità sotto al sole. E quindi è tutto un dire. Dall'altro lato, quello dell'S5 non è assolutamente male, non mi lamento, ma comunque quello GH6 è meglio. Non ho trovato invece grosse discrepanze nel viewfinder. Lì non ho avuto grandi difficoltà né con GH5 né con GH6. Io non li utilizzo tantissimo perché sono un quattro lenti. Porto gli occhiali, quindi il viewfinder l'ho utilizzato davvero quando sono in controluce forte. Devo togliermi per forza gli occhiali, regolare ogni volta le diottrie e scattare. Ma non ho trovato enormi differenze tra i due. Dove invece sono andato letteralmente in pappa sono i controlli della camera, perché tra GH6 ed S5 sono differenti i posizionamenti delle ghiere. E dopo un anno intero con un corpo macchina, porca miseria, era stato duro per due settimane continuare a sbagliare costantemente le ghiere. Anche se potevo reimpostarmele, però non ci ho pensato. Volevo abituarmi con quelli di default. Alla fine però continuavo a sbagliare. Insomma, queste sono un po' di analisi. Poi vi ripeto, c'è quest'ultima analisi sulla qualità visiva che in realtà è un dettaglio molto soggettivo su qualcosa che io percepisco, ma tra le altre cose lo percepisco anche nei video di persone che so che utilizzano S5 e c'è quella qualcosa nei colori, nella pasta, c'è un po' di patinatura sul sensore, c'è qualcosa che mi fa dire, porca miseria, quanto mi piace. E non riesco a ritrovare che cosa. Ho provato anche a giocare con i parametri dei profili colore di GH6 per provare a ottenere quella pasta che non ci sono riuscito. E dopo quello che poi mi sono detto dai, torniamo a S5, ho fatto la stupidaggine o meglio. Più che stupidaggine io la prendo come una nota positiva. ho capito che la S5 è la camera che fa per me. Insomma, io vi ringrazio per aver visto questo video. Spero che questa mia stupida esperienza possa servire a qualcuno di voi e vi faccia apprezzare quello che avete, quello di cui vi siete appassionati, quello di cui vi siete innamorati è che in realtà non c'è sempre l'esigenza di cambiare per avere il massimo o per avere il meglio, secondo noi. Insomma, io vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto, di scrivermi qua sotto nei commenti qual è la vostra fotocamera preferita e di seguirmi anche su Instagram. E vi anticipo, a fine video lo dico sempre, sbaglio sempre a dire a fine video queste cose, che sto preparando dei progettini che dovrebbero uscire tra poco. Sono diverse, dovrei riuscire a lanciare tutti quanti insieme. Non voglio dirvi altro, quindi seguitemi su Instagram che lì nelle stories racconto queste cose. Insomma, io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.